Dio è umile e per noi si è fatto piccolo, come possiamo rimirare nel presepe. Nel corso dell'ultima udienza generale del 2015, svoltasi in piazza San Pietro, nonostante il freddo pungente, Papa Francesco si è soffermato sulla figura del bambino Gesù, una devozione coltivata nella storia da tanti santi e sante. Pur non conoscendo tanto storicamente dell'infanzia del figlio di Dio, il Pontefice ha invitato tutti a riflettere su questa immagine che rimanda a quella dei bambini, bisognosi di essere protetti, amati, custoditi, bisognosi di giocare. Per relazionarsi con un piccolo dunque è necessario abbandonare la logica degli adulti per scoprire la tenerezza di un sorriso, il calore di un amore che non delude. Davanti a Gesù siamo chiamati ad abbandonare la nostra pretessa di autonomia, e questo è il nocciolo del problema, la nostra pretessa di autonomia, per accogliere invece la vera forma di libertà che consiste nel conoscere chi abbiamo dinanzi e servirlo. Lui, bambino, è il figlio di Dio che viene a salvarci. È venuto tra di noi per mostrarci il volto del Padre ricco di amore e di misericordia.